E' la prima italiana di Chirina, spettacolo firmato dal coreografo Burkina Bè, Sergei Mekulibali, la cantante maliana, icona della musica mondiale, Rocchia Traoré e lo studioso iscrittore Felwinsar ad aprire al Teatro Argentina a Roma la 33esima edizione del Roma Europa Festival, il cui titolo è, non a caso, Between Worlds. L'Africa vive un grande momento di cambiamento. L'Africa vive un grande momento di cambiamento a livello di mentalità, spiega Kulibali, cioè gli intellettuali, gli artisti africani hanno cominciato a riscrivere la storia dell'Africa come loro la vedono, perché fino ad oggi sono stati gli altri a guardarci e dirci come dovevamo essere. Da diversi anni cerco di mostrare l'Africa con un nuovo volto, aggiunge. L'Africa su un nuovo visaggio. Una storia del XIII secolo in Mali, ma in verità una vicenda molto attuale. In verità Kirina è uno spettacolo che approfitta di una realtà attuale per aprire una grande finestra su una storia più grande. Per creare un'opera come Kirina c'era davvero bisogno di uno scrittore come Felwinsar, autore di Afrotopia, perché appunto lui ha riscritto la storia dell'Africa oggi, aprendo su un grande passato, ma anche su un grande futuro. Fabrizio Grifasi, direttore generale artistico della Fondazione Roma Europa. È un'opera di grande vitalità, di grande gioia, è un'opera di grande omaggio alla vita e ai colori della vita. Arti digitali, grandi collaborazioni istituzionali, 26 spazi, due mesi di spettacoli, insomma un festival mondo che è a vostra disposizione.